La pronuncia della consulta sul caso Fabo Cappato riporta di nuovo all'attenzione il complicato tema dell'eutanasia. La questione resta in primo piano in tutta Europa da oltre due decenni, ma ad oggi i paesi che hanno legiferato nel merito in maniera approfondita si contano ancora sulle dita di una mano. L'Olanda è stata la prima al mondo ad approvare nel 2002 una legge sul fine vita. Anche Belgio e Lussemburgo ne hanno una rispettivamente a partire dal 2003 e dal 2008, mentre la Svizzera consente il cosiddetto suicidio assistito, nel quale un sanitario consiglia al paziente i farmaci da somministrarsi, a patto che lui stesso giochi attivamente un ruolo nella somministrazione. Stessa cosa per la Germania, dove la legge sul suicidio altruistico è stata approvata nel 2015 e dove un vuoto normativo consente inoltre ad alcune associazioni di fornire i farmaci che il paziente dovrà somministrarsi. Un'altra distinzione importante è tra eutanasia attiva e passiva. Quest'ultima, che in linea di massima consiste nell'interruzione dei supporti vitali, è legalizzata, depenalizzata o quantomeno tollerata in diversi paesi, tra i quali Spagna, Finlandia, Ungheria e Svezia. Negli ultimi mesi il tema è tornato prepotentemente alla ribalta, con una serie di casi come quello di Benson Lambert, morto a luglio per interruzione delle cure dopo una querelle che per 11 anni ha diviso la Francia in due. O ancora il caso del medico olandese, che si è ritrovato a violare la legge per aver praticato l'eutanasia a una 74enne affetta da demenza e dunque non ritenuta abile a fornire il consenso.